Eccoci qui ancora in vostra compagnia, come facciamo sempre il venerdì è il momento delle anticipazioni relative al settimanale Credere ed è qui con noi Laura Bellomi, appunto giornalista di Credere. Laura, buon pomeriggio, bentrovata. Buon pomeriggio a tutti. Allora io direi partiamo magari facendo vedere la copertina di Credere di questa settimana dedicata alla famiglia di Lino Banfi in occasione del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Lino Banfi famoso attore anche a seguito delle tante commedie, sceneggiati che ha fatto nella sua carriera è un po' stato eletto come nonno d'Italia, diciamo così. Sì, diciamo così ed è vero, penso che addirittura il Papa lo ha consacrato nonno d'Italia. L'anno scorso in occasione proprio della prima giornata mondiale degli anziani e dei nonni. Papa Francesco ha proprio scritto a Lino Banfi riconoscendogli il ruolo appunto di nonno d'Italia perché sappiamo che con un medico in famiglia Lino Banfi nonno libero è diventato davvero un po' il nonno nazionale. E poi Francesco lo ha anche ringraziato per il dono del suo sorriso perché riconosce appunto in questa sua predisposizione di Banfi e nel suo essere un attore comico un grande dono anche per tutti i telespettatori. E' quindi sicuramente un personaggio naturalmente che fa convogliare molta simpatia nei suoi confronti e dobbiamo dire anche della forza dei nonni e dell'importanza al di là ovviamente del lato umano però nella nostra società i nonni spesso e volentieri aiutano i figli nel tenere i nipoti quando i figli sono al lavoro quindi questo è qualcosa di importante. Sì sicuramente mi piace anche citare un pezzo dell'intervista che pubblichiamo su Credere in cui Banfi dice che quando va nelle scuole a incontrare gli studenti, gli capi insomma di incontrare i ragazzi chiede subito ma hai mai detto ti amo alla tua fidanzata, alla tua ragazza? Che è una domanda che dice che spiazza molto i ragazzi però Banfi dice se noi nonni che abbiamo alle spalle tanti anni di vita riusciamo a incoraggiare anche i ragazzi ai sentimenti veri, duraturi e profondi ecco abbiamo fatto davvero la nostra parte. Ricordiamo anche che Banfi ha 86 anni, ha due figli e due nipoti e oltretutto lui l'ha raccontata sta vivendo anche naturalmente un'esperienza difficile con sua moglie afflitta da vari problemi. Sì la moglie Lucia lo dice lo stesso Banfi sta vivendo la malattia dell'Alzheimer ancora in fase iniziale e Banfi con suo tocco di spirito, di buon umore anche di serenità cristiana probabilmente ha raccontato che un dubbio, una paura della moglie Lucia era malino se la malattia avanza quando non ti riconoscerò più che cosa faremo e lui strappando un sorriso ha detto non importa ci ripresenteremo di nuovo e sicuramente mi innamorerò di nuovo di te. Quindi questo sicuramente la dice lunga di che tipo è Lino Banfi, attore e quant'altro. Ecco tra gli argomenti e passiamo al secondo argomento parlate anche dell'associazione Emmaus è un'associazione particolare perché ecco magari spiegalo tu. Perché fa un po' da ponte fra l'Italia e l'Ucraina e quindi è un'associazione che in questo periodo storico è quanto mai utile e preziosa. In provincia di Bergamo? Sì, in provincia di Bergamo in particolare in Val Seriana a Novazza l'associazione sta ospitando 30 persone fra orfani e disabili provenienti appunto dall'Ucraina e li sta ospitando perché già negli anni passati alcuni di loro erano venuti in Italia per trascorrere un periodo di serenità e di vacanza. Scoppiata la guerra l'associazione si è chiesta subito cosa poteva fare e essendo queste persone in grande difficoltà sono arrivate in Italia appunto come profughi. Ora a Novazza si è quindi creata questa comunità di una trentina di persone e qui l'associazione cerca di aiutare tutti a ritrovare serenità e anche a lavorare per quello che si può in una valle montana. Comunque una bellissima esperienza e la cosa bella è che anche la popolazione locale di questa valle bergamasca sta cooperando collaborando per mandare avanti appunto la vita anche quotidiana di queste persone. Ecco sappiamo che questo è un grossissimo problema perché i profughi ormai sono milioni possiamo dire in Polonia, in Germania e anche naturalmente quelli che sono arrivati nel nostro paese. Credo che da un lato la giusta ospitalità, il giusto sostegno e poi dar loro anche qualche speranza per il futuro. È quello che proprio tenta di fare l'associazione. È quello che tenta di fare l'associazione e speriamo naturalmente ci riesca perché le cose non sono mai semplici. Tra i vari argomenti anche vi occupate di esattamente rigenerare anima e corpo. Lo vediamo, il cammino della pace interiore. Questo naturalmente è il cammino di pace di Don Federico Tartaglia. Sì è un tema più leggero dopo l'esperienza dei profughi in Vasseriana. Un tema però molto calzante con anche le settimane di vacanze e di riposo che stiamo vivendo o che ci apprezziamo a vivere. Don Tartaglia ha appena scritto un libro che si intitola È ora di trovare pace e in questo testo cerca di aiutare il lettore a fare un cammino introspettivo, un cammino dentro di sé proprio alla ricerca delle proprie radici, della propria serenità. Un po' un modo per ritrovare il baricentro in un'esistenza spesso sballottata fra gli impegni, le preoccupazioni e la quotidianità incalzante. Gli orari da rispettare. Ad esempio. Don Tartaglia dà alcune indicazioni pratiche, ne cito due, sicuramente quello di provare ad assaporare la pietre, di immergersi nella natura, di staccarsi dal telefono e poi suggerisce anche di guardare a sé e alle nostre relazioni, alla nostra vita come un tutt'uno. In scia proprio all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in cui il Pontefice ricorda, sottolinea che tutto è connesso, è connessa la pace interiore, la pace nel mondo, la giustizia sociale e così via. Ecco, dobbiamo dire anche che questo possono essere un po' anche vacanze particolari, un po' tutti siamo abituati a fare la vacanza, ma molto spesso significa andarsi a infilare in qualche posto dove confluiscono altre milioni di persone e quindi ci ritroviamo magari o al mare o in montagna, ma in luoghi molto ma molto frequentati. Quindi a volte sarebbe bene anche magari ponderare un pochino e per chi è amante anche del silenzio, di un'altra situazione, magari riuscire a fare le vacanze con altra modalità. Sì, uno dei suggerimenti di Don Tartaglia è anche quello proprio di ritagliarsi del tempo, del tempo per stare in silenzio, mettersi in ascolto, stare da soli anche se ci troviamo in località frequentate e pieni di altri villeggianti. E in questo silenzio sicuramente poi anche le occasioni per riflettere, fare entrare la calma dentro di noi e perché no anche sentir risuonare le parole del Vangelo, ecco tutto questo può aiutare a ritrovare l'equilibrio, trascorrere delle vacanze serene e ricominciare poi l'anno con maggiore energia e carica. Certo, poi magari a volte si dà per scontato che tutti possano fare le vacanze, ahimè così non è per mille motivi, ci sono persone che non se lo possono permettere, che non hanno le capacità, le possibilità e via dicendo, per cui magari in molti casi anche la vacanza e spesso ne abbiamo parlato in altri termini sui costi, il turismo e via dicendo e anche quest'anno forse fare le vacanze sta diventando un pochino più difficile del solito. È vero, mi piace ricordare la modalità di vacanza di Papa Francesco il quale non si allontana dal Vaticano ma rimane a casa e trova però nel riposo quella dimensione di vacanza, di ricreazione come possiamo chiamarla, quindi arricchita e impreziosita la possibilità di leggere magari libri che non abbiamo letto, non abbiamo avuto il tempo di leggere piuttosto che dedicarsi al riposo anche del corpo. Va un po' sfruttata ecco la, diciamo così, la vacanza anche per fare quelle cose che non riusciamo a fare durante l'anno o che le facciamo con troppa rapidità e così, cioè avere a disposizione qualche tempo un pochino più lungo, qualche pausa di questo tipo sicuramente aiuta. Sì, tra le cose che non facciamo non abbiamo mai il tempo di fare bene con calma, ad esempio la sistemazione e la cura degli ambienti in cui siamo, la possibilità di passeggiare anche in quartiere, insomma tutte le cose che diamo a cui forse non diamo importanza durante l'anno perché appunto la vita è incalzante possono invece dare qualche di tranquillità e di pace di gusto anche alle vacanze fatte a casa. Va bene, allora siamo in conclusione, rivediamo magari la copertina di credere, così ribadiamo, dedicata al 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, appunto vi ricordiamo è stato preso Lino Banfi e la sua famiglia, due figli, due nipoti come esempi e Banfi che dice noi nonni guardiamo avanti con il sorriso. Va bene, io ringrazio tanto Laura Bellomi che è stata qui con noi, grazie Laura. Grazie e buona giornata a tutti. Adesso speriamo di concederci anche noi un periodo di tranquillità, di vacanze e poi naturalmente ci rivedremo a settembre. È tutto, buona continuazione, buon pomeriggio. Grazie a tutti.